Loro si sono presi cura di te con amore da sempre. Ora è il momento di scegliere il meglio per i tuoi cari. Casa Serena, Cava dei Tirreni, si prende cura di loro garantendo sicurezza, qualità e professionalità. I finanzieri della compagnia di Cava dei Tirreni hanno posto agli arresti domiciliari un sessantenne originario del comune metelliano, conosciuto in città in quanto proprietario di uno storico negozio di abbigliamento. L'ordinanza di custodia cotelare nei confronti dell'uomo è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura della Repubblica di una delle province sarde. In particolare il soggetto tratti in arresto è accusato di reati tributari, banca rotta fraudolenta e frode fiscale. Le indagini nei confronti del sessantenne cavese hanno avuto origine in Sardegna, dove l'imprenditore attraverso il figlio gestisce un bar e ristorante. A Cava dei Tirreni l'uomo è in gestione invece un'attività commerciale specializzata nella vendita di abiti per cerimonie. Negli ultimi tempi l'attività ha avuto un progressivo declino economico, causato anche da contrasti tra socio e personale del negozio. Le accuse nei confronti del cittadino metelliano si basano in particolare su un presunto tentativo di nascondere il proprio patrimonio per simulare l'insolvenza, danneggiando i creditori. In particolare l'uomo, secondo gli investigatori, avrebbe occultato parte dei propri beni per sottrarlo al recupero forzato.